gentili telespettatori buona giornata cacciari da una sua lezione delle tante alla sinistra che reputa anche lui una scatola praticamente vuota inutile dice siete tutti arroganti tutti professori la meloni invece cacciari calenda e tanti altri sono diventati una sorta di difensori del presidente del consiglio massimo cacciari torna a criticare il partito democratico intanto perché questi intellettuali di sinistra comunque come cacciari lodano la meloni perché le idee della sinistra quelle migliori sono state assorbite dal centrodestra ormai da diverso tempo non da oggi di diverso tempo perché la sinistra è una scatola vuota è una scatola vuota perché le cose sono rimaste solo le cose insulse le cose intelligenti sono finite dall'altra parte pertanto questi questi uomini di sinistra vedono attuare quello che il pd non attua più non interessa più così massimo cacciari torna a criticare il partito democratico dopo le elezioni che hanno visto il centrodestra vincere i dem democratici sono allo sbando i sondaggi dicono di un pd addirittura intorno al 15 per cento la soluzione per massimo cacciari è che la sinistra si salva solo se affronta sul serio la questione sociale dovrebbe essere il cuore del suo gire ma una sinistra ridotta in questo modo che a cui interessa solamente criticare andare contro gli altri che non ha uno straccio di divisione per il futuro non ha uno straccio di proposta quando gli hanno chiesto una proposta c'è l'agenda draghi c'è l'agenda draghi come dire dai non mi fate stare qui a pensare a delle misure lasciamo stare facciamo quello che faceva draghi cosa è quello che faceva draghi lo stava facendo ecco pertanto come può una sinistra anche solo pensare di affrontare la questione sociale dovrebbe uscire dai palazzi non c'ha voglia e andare in mezzo alla gente e non c'ha voglia non c'ha nessuna voglia dice cacciari dovrebbe essere il cuore del loro agire andare in mezzo alla gente il pd deve ritrovare il contatto con le masse ed essere credibile nelle proposte non è un caso che ormai gli operai votino a destra oggi conferma raggiunto dalla repubblica la destra guadagna proprio dove la sinistra ha sbaraccato e poi cacciari dice ma siete supponenti voi di sinistra siete supponenti siete tutti dei professori ecco supponenza che non caratterizza giorgia meloni lei dice cacciari cerca di essere umile perché percepisce la delegittimazione che investe il sistema politico invece a sinistra sono tutti i professori e più perdono più diventano arroganti quindi professori che perdono e diventano sempre più arroganti il congresso vuole scegliere un nuovo segretario cacciari non è certo dice non mi appassionano queste cose non mi appassiona la contesa trovo sbagliato il metodo servirebbe una discussione radicale liquida la sfida apertissima tra bonaccini e schlain ecco santoro li chiama due figuranti due maschere ecco che impersonificano uno stefano bonaccini impersonifica il buon amministratore regionale e lì schlain la novità giovane donna che potrebbe essere l'antimeloni quindi o l'antimeloni o il buon amministratore interpretano una parte che gli è stata affidata dal partito tu fai questo e tu fai quello e vediamo chi vince magari hanno già deciso chi vince il caso differente è quello di diventare una sorta di partito d'azione o di partito radicale e questo non può essere il destino di un partito di massa dice partito che in via teorica discute di disuguaglianza precarietà lavoro femminile di cosa credete che discutono le masse dice cacciari ecco realmente cacciari ormai è un uomo che guarda con con disperazione questa questa sinistra e questo partito democratico credo che cacciari neanche neanche voti pd come ad esempio santoro non so per chi hanno votato ma sono quasi sicuro che ormai queste persone che non sono di destra ma non possono neanche votare non possono neanche votare a sinistra perché la sinistra come vi dicevo è una tremenda scatola completamente vuota c'è qualche fogliettino dentro sta scatola vuota che svolazza tu prendi il fogliettino e leggi legge zan un altro fogliettino e leggi uscole che sono le cose che sono rimaste lì volando nelle stanze vuote perché le idee migliori sono finite a destra le cose che non sono priorità o che sono poco importanti sono rimaste lì che poi ovviamente tireranno fuori come delle bandierone alle prossime elezioni regionali condominali quello che sarà bene cosa vi devo dire cacciari come tanti altri come lui sono delusi da questa sinistra e vengono attirati come una cala come un magnete come una calamita da giorgia meloni perché giorgia meloni fa delle politiche sociali quello che dovrebbe fare la sinistra andare a fare politiche sociali andare gli operai dovrebbero votare sinistra invece gli operai votano la lega e votano fratelli d'italia dice allora i poveri dovrebbero votare sinistra e si scopre che i poveri votano fratelli d'italia i ricchi devono andare a destra e si scopre che la maggior parte dei ricchi vota per il pd e dopo votano anche per fratelli d'italia fratelli d'italia è votata da ricchi e poveri mentre il pd in gran parte sono solo ricchi gente che guadagna da almeno da 5 mila euro in su al mese questa è la realtà a cui stiamo assistendo io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui su tele italia ricordatevi che c'è poi anche tele italia seconda rete con video di politica notizie fai da te e poi ci sono altri due canali in cucina con carla carla con la k e tutorial l'uncinetto con carla carla con la k che sono i canali di mia moglie uno ha già più di mille iscritti l'altro è aperto da poco tempo non sono monetizzati perché ci vogliono oltre i mille iscritti ci vogliono anche 4.000 ore minimo di visualizzazione in un anno e sui canali appena nati non ce li hanno ad esempio in cucina con carla quasi 900 900 ore di visualizzazione ne mancano un altro 75 per cento bisogna arrivare a 4.000 ore col tempo piano piano ci si arriva grazie a tutti e arrivederci a presto